Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. L'alta pressione è il rinforzo su tutta Italia e tutto il Mediterraneo centrale grazie all'approfondimento di una perturbazione sulla penisola iberica. Sarà proprio questa depressione la responsabile del bel tempo sull'Italia e di un netto aumento termico nel corso della settimana almeno sino alla giornata di sabato. In Abruzzo si prospetta una giornata da piena primavera con gelissi e regni ovunque, al più un po' di pulviscolo sariano, specie in appennino però senza fenomeni annessi. Temperature in aumento, valori massimi tra i 14 e i 17 gradi, ancora un po' freddo di notte con minime tra 2 e 9 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.